Ciao a tutti ragazzi sono Cielo Fisis E quest'oggi Siamo qui in questo nuovo video con la mia nuova skin Logicamente Del Cielo Pack 2 Probabilmente questo sarà uno degli ultimi episodi Ragazzi quest'oggi andremo nel ladder Perchè nel ladder c'è un portale Che ci porta in un'altra dimensione Si Mettere un portale dentro un altro portale non ha molto senso Eee Anche questo ha molto senso comunque Dobbiamo cercare un portale Per l'abisso l'ultima dimensione Che andremo ad affrontare Nella serie mi sono preparato tantissimo Come vedete ho tonnellate di cibo Sono in pacifica ok Sono in pacifica adesso non più Dobbiamo cercare questo portale Io non so minimamente dove si possa trovare E bisogna trovarlo a caso Vediamo un pochino la mappa Se riusciamo a trovarlo aspetta X Io non lo vedo per ora Non so neanche che forma abbia Però è un portale Quindi dobbiamo cercare questa struttura E adesso la cerco e ci vediamo dopo appena la trovo Ciao Ragazzi Quelle sono uova di drago E lampede di redstone Che cosa succede? Questo non è il portale È un'altra cosa Ma ragazzi il mondo sta crashando E c'è nel nether Un bioma fatto completamente di uova di drago Ma che cavolo significa? Aiuto Aspettate un secondo Il lag poi è sovrumano Ma sta lasciando questo C'è un bioma fatto di uova del drago Aspetta magari con questo qui riesco a zoomarvi un po' Guardate sono uova di drago Guardate sono uova di drago Tonnellate di uova di drago E non è giocabile Aiuto Che cosa succede in questo mondo? Oh cavolo Oh cavolo Oh cavolo Scappa Scappa Ok Ok adesso non lagga più Che cos'è quel posto? Non ci devo più tornare Bell'amor del cielo Non devo mai più andare in quella direzione Ok ragazzi Chiedo di averlo trovato In teoria dovrebbe essere Là dietro Si intravede Sì Nella mappa si vede benissimo Però il problema è che lì È il bioma delle uova di drago Il lag sarà pazzesco E sarà un'impresa raggiungerlo Ma io devo farlo Devo farlo E riuscissi a mettere in passo al video Oh Prova a saltare Prova a saltare Cavolini Perché l'ho fatto? Ok Adesso laggerà come non mai Perché appunto Là dietro comincia il bioma Delle uova di drago E quello che noi dobbiamo raggiungere No Non è questo Quello che noi dobbiamo raggiungere Aspetta Io devo provare Ad andare di qua Ok No Allora ragazzi Quello che noi dobbiamo raggiungere Raggiungere Esattamente nel mezzo Del bioma Delle uova di drago Riuscirò mai a raggiungerlo Non vi registro Perché sarà una cosa Assurda Se riuscirò mai a raggiungerlo Ci vedremo direttamente là Sono entrato nel bioma Il lag Mi sta per fare esplodere il computer Non credo che riuscirò A restare qui per molto Senza crashare Soprattutto perché sono già Crasciato tre volte Ok Presto Fino che sia troppo tardi Non lo vedo Non vedo più il portale ACP Che mi sa che è sopra No Come lo raggiungo Come cavolo lo raggiungo Ok Dai Salta Lagga così tanto Che non riesco a saltare No Ha saltato Evviva Ok Infatti è crashato Ok ragazzi Non so come Ma sono riuscito a scappare Da quell'inferno Di bioma Ancora laggando Mi sto allontanando Lentamente Cercherò a portare altrove E se non lo trovo Se non lo trovo Cercherò Che cavolo dai Ma non ci posso credere Puoi aspettare un secondo Che sto cercando di Vivere insomma Senza questo lag pazzesco Qui Dovuto a un cavolo Di bioma Fatto di uova Di drago Muoio Sono morto Ah Aiuto Ok L'economia È un hard Bussiness Grazie Grazie Ma che cavolo Guardi Ok Ritorniamo Comunque Se mi sentite un po' male È perché Ho un po' di raffreddore Perfetto E smettere di sparare Che non ho Così tanti proiettili Ok Forse dovrei tenerle I proiettili Non spaccare il portale Sai Caspita Quasi distrutto Scappo 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 Allora vediamo un po' Di qua possiamo andarci E andiamo di qua quindi Ragazzi Anche da questa parte Del ladder C'è Il bioma Delle uova Cavoli Se non riesco a trovarlo qui Non posso andarci Oltre a quello A quanto pare Tutta la zona Qui attorno È fatta di uova E in quel bioma Non ci posso andare Perché crash Perché esiste un bioma così Quindi possiamo solo sperare Di trovare il portale Qui vicino Che spavento Aiuto 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 Caspita Sono pesa uno spavento E quanti Mamma mia Aiuto 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 Sempre di più ne arrivano Via 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 Ragazzi Dopo aver esplorato per Tanto Ho ritrovato di nuovo Il bioma delle uova E non ho ancora trovato il portale Ragazzi Quindi Tutto ciò che posso fare È tornare indietro E se nel tragetto di ritorno Non lo trovo Dovrò Sarà costretto a cittare E prenderlo Perché questo cavolo di modpack Mi costringe sempre a cittare Sempre E non posso neanche passare di qua Eh no ragazzi Mi ha costretto a cittare di nuovo il modpack Perché non c'è manco un miserissimo Portale in tutto questo tragetto E il resto del mondo è pieno di uova di drago Perché uova di drago E rampade Quindi ho dovuto prendere il portale dell'abisso Adesso lo metteremo in un luogo sicuro Per evitare che venga distrutto Ok Ok ragazzi Entriamo Piove Sta piovendo Bello Ok Occhi Ci sono degli occhi Forse è meglio che tolgo Il tempo qui Ok Nuovo Portal Ports Ok vediamo un pochino Com'è questa dimensione Piena di occhi E che piove Non so se piove perché è un bug Oppure perché Che succede Cos'è Sei te Muori Oh Ah era lui Si Ok Non so che sia questo Ma non ci voglio andare Quello che noi dobbiamo cercare In questa dimensione È una specie di grosso albero Che cospita sono Cos'è che mi picchi ancora Cos'è che Ah se è un velenoso Ok Un grosso albero Che potrebbe anche essere Quello dove siamo spawnati Sai No non è questo È questo No neanche Eh che è questo Ma questa è la torre degli amuleti Non ci dovrebbe essere qua Vabbè sarà un bug Ok basta Vabbè vediamolo Visto che ci siamo Ah qua ci sono le spine Che fanno anche un casino di danno Quelle spine Riesce Riesco a salire qui Ok ce l'ho fatta Rompiamo questi Che sono falsi E Facciamo così No così Food saturation Evviva Questo è abbastanza buono No non serve un cavolo Sono incendiario però Mi sa che è questo Che mi dà incendiario Quindi se qualcuno mi colpisce Gli do fuoco tipo Eh boh Va bene scopriremo questa dimensione Nel prossimo video Ciao a tutti